Viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia, viva i dollari, arriva di dollari, arriva di dollari, multinazionale americana, viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia. Eravamo in zona e abbiamo visto, ci ha segnalato la presenza della dottoressa Lucini qui a questa cena insieme, poi abbiamo verificato dei parlamentari italiani e abbiamo messo in piedi una protesta pacifica molto contenuta, abbiamo lanciato dei dollari in segno di protesta e poi come dice il nostro collega abbiamo raccolto.